Buongiorno a tutti da Gold Music TV, siamo qua presso lo stand di T-Rex, questa è una carrellata veloce veloce da vomito quasi dei pedali, ok, noi oggi abbiamo uno special guest, here directly from Italy, Antonio Divenzotti che sta provando il nuovo sistema T-Rex, ok, qual è la tua impressione riguardo a questo mezzo? È un prodotto nuovo molto versatile, il suono mi piace moltissimo, ti dà la possibilità anche di riuscire a switchare e ad abbinare altri pedali e quindi fare dei preset e salvarli è eccezionale, per chi suona live è fantastico. E come suonano, come ti sembra? La pasta sonora mi piace moltissimo, il prodotto è nuovo, completo, dotato di accordatore, delay con tap tempo quindi comodo anche sul palco quando sei live per dare il tempo al pezzo, mi pare un prodotto moltissimo. Ti piace? Va bene, lui nel frattempo suona e si diverte, noi proviamo a far capire più o meno come funziona. Allora, la nuova Soulmate praticamente ha quattro canali, overdrive, distortion, delay e reverbero. Poi può essere suddiviso in bancate, c'è la possibilità del quinto tasto diciamo che è un boost ma può essere anche il quinto canale. Poi c'è la funzione tap tempo o tuner, questa invece è una funzione interessante, la funzione live o save, nel senso che quando la funzione è live questi singoli canali possono essere schiacciati diciamo, possono essere cliccati in modo separato senza nessun problema, perciò si sceglie un overdrive, si serve un delay, si mette e si toglie l'effetto senza nessun problema. Quando invece non è in funzione live, si va per bancate, quindi per suono scelto. La cosa interessante è che questa pedaliera può aggiungere anche i suoni di pedali esterni, come in questo caso. Lui sta usando dei suoni che sono mischiati a questi pedali qui e alla pedaliera stessa. Quindi salvarli in bancate, ad esempio suono 1, 2, 3 o 4, 5 nel caso, e praticamente dove vengono miscelati i pedali esterni con i pedali della pedaliera stessa. Quindi è un ottimo elemento per chi suona live, per chi vuole avere una pedaliera compatta e la possibilità di avere un sound, direi, notevole su questo. Giustamente fa notare Antonio che ha anche la possibilità di avere il volume del boost. Ok, un altro ottimo prodotto da T-Rex. Noi salutiamo il mitico Antonio e lo ringraziamo per la presenza. E saluto a tutti. Bye! Ciao a tutti. Rock and roll! Rock and roll!